Dopo le numerose polemiche per orari che non tornavano, corse saltate e soprattutto difficoltà per gli studenti, in alcuni casi lasciati addirittura a piedi, il gestore Autolinea Toscane ha comunicato che da lunedì 3 ottobre applicherà delle modifiche ad alcuni servizi scolastici extraurbani di riferimento per il territorio della provincia di Arezzo, variazioni adottate in seguito all'abituale fase di monitoraggio dei servizi e dell'assestamento dell'orario scolastico. Dunque per la linea LS1N è prevista una variazione per la corsa di partenza alle 7 da Baglialpino che da lunedì sarà anticipata alle 6.55 così da garantire la coincidenza con il treno per Arezzo. Per la zona Casentino previsti alcuni ritocchi a linee scolastiche, la corsa della linea LH4 in partenza da strada per Bibiena stazione delle 7.20 raggiungerà la stazione di Bibiena alle 7.50, la corsa della linea H02 in partenza da Bibiena stazione per Badia Prataglia alle 8 sarà anticipata alle 7.50, di conseguenza anche la corsa della linea H02 in partenza dalla stazione di Bibiena per Badia Prataglia alle 8.02 sarà anticipata alle 7.52. La corsa della linea LH6 in partenza da Ortignano per Bibiena stazione alle 5.54 sarà posticipata alle 6.12. Sempre per la linea LH6 la corsa in partenza da Bibiena stazione per Raggiolo alle 7.58 sarà anticipata alle 7.54. Nell'area della Valdichiana Senese per la linea S13 è prevista l'attivazione di una nuova corsa scolastica valida da lunedì al venerdì in partenza alle 7.05 da Torrita per Bettole e dunque funzionale per gli studenti dell'Istituto Capezzine. Autolinea Toscana comunica comunque che l'azienda si riserva ulteriori valutazioni, dato che il lavoro di verifica da parte dei tecnici sta proseguendo ad ampio raggio.